Il caro Bollette non dà tregua alle imprese e alle famiglie della Sardegna. Ad agosto i prezzi dell'elettricità, del gas e degli altri combustibili sono cresciuti in media del 75,6% rispetto allo stesso periodo del 2021. L'aumento maggiore è stato registrato a Olbia Tempio con più 73,6% rispetto all'anno precedente, segue la provincia di Sassari con più 64,7% e Cagliari con più 66,4%. Le crescite sono state rilevate dall'ufficio studi di Confartigianato Imprese Sardegna che ha analizzato i dati Istat tra il 2021 e il 2022. L'ennesimo momento dei costi annunciato dall'inizio di questo mese è la raffigurazione tangibile e concreta dello tsunami energetico che avanza inesorabilmente. Gli artigiani di Confartigianato Imprese Sardegna chiedono al prossimo governo di fare in fretta e di studiare interventi consistenti e soprattutto semplici nella fruibilità perché la complicatezza delle procedure burocratiche costituisce per le piccole imprese una barriera all'accesso agli sgravi e i ritardi nelle erogazioni possono favorire le catombe del settore produttivo. L'ennesimo momento dei costi energetici annunciati da questo mese hanno detto Maria Melialai e Daniele Serra, rispettivamente presidente e segretario di Confartigianato Imprese Sardegna, ci pone davanti a un'emergenza senza precedenti perché rischiamo una vera e propria catastrofe economica e imprenditoriale. Il prossimo esecutivo, hanno concluso, deve intervenire subito perché migliaia di attività potrebbero chiudere. Se lo Stato non ha le risorse è indispensabile utilizzare i fondi europei per calmerare subito il costo delle bollette.